Sigmund Freud, studi sull'isteria e altri scritti, 1886-1895. Capitolo terzo, considerazioni teoriche. Quattro, stati ipnoidi. Quando nella comunicazione preliminare asserimmo base a condizione dell'isteria e l'esistenza di stati ipnoidi, trascurammo che Moebius nel 1890 aveva già detto esattamente la stessa cosa. Presupposto dell'azione patogena delle rappresentazioni è, da un canto, una disposizione innata, vale a dire la disposizione isterica, è un particolare stato d'animo dell'altro. Di questo stato d'animo ci si può fare solo un'idea imprecisa. Deve essere simile a quello ipnotico, deve corrispondere a un certo vuoto nella coscienza, nel quale a una rappresentazione che si presenti non venga opposta alcuna resistenza da parte di altri e in cui, per così dire, sia libero il trono per la prima che capita. Sappiamo che uno stato siffatto, oltre che mediante ipnotizzazione, può venire provocato da scosse emotive, spavento, ira, eccetera, e da influssi che esauriscono, insonnia, fame, eccetera. Il problema alla cui soluzione Moebius cercava di approssimarsi è quello della formazione di fenomeni somatici mediante rappresentazioni. Egli, a tal proposito, ricorda la facilità con cui tale formazione avviene nell'ipnosi e ritiene analoga l'azione degli affetti. Il nostro modo di vedere alquanto differente circa quest'azione degli affetti è stato ampiamente esposto più sopra. Non occorre perciò che io mi addentri qui oltre nella difficoltà che si riscontra per il fatto che Moebius assume nell'ira un vuoto della coscienza, che sussiste in realtà nello spavento e nell'angoscia protratta, e dica quanto sia difficile in generale stabilire un'analogia fra lo stato di eccitamento nell'affetto e la quieta dell'ipnosi. Ritorneremo proprio avanti sulle proposizioni di Moebius, le quali, penso, contengono un'importante verità. Per noi, l'importanza degli stati simili all'ipnosi, ipnoidi, sta inoltre, anzitutto, nell'amnesia e nel suo potere di determinare quella scissione della psiche di cui si dirà tra breve e che è di significato fondamentale per la grande isteria. Tale importanza noi attribuiamo loro tuttora. Devo tuttavia limitare essenzialmente la nostra proposizione. La conversione e la formazione ideogena dei fenomeni somatici si compie anche al di fuori degli stati ipnoidi e, per la formazione di complessi di rappresentazioni, che sono esclusi dai rapporti associativi. Freud ha trovato nell'amnesia volontaria della difesa una seconda fonte, indipendente dagli stati ipnoidi. Ma con questa limitazione, penso tuttora che questi ultimi siano causa e condizione di molte, e anzi, della maggior parte delle isterie grandi e complicate. Fra gli stati ipnoidi si annoverano naturalmente soprattutto le autoipnosi reali, che si distinguono dalle artificiali soltanto per la loro genesi spontanea. Le troviamo in talune isterie pienamente sviluppate, con frequenza variabile e con varia dorata, spesso in rapidissima alternanza con lo stato della veglia normale, vedi i casi clinici 1 e 2. A motivo del loro contenuto rappresentativo, paragonabile ai sogni, meritano spesso il nome di delirium istericum. Nella veglia, per i processi interni di questi stati, sussiste un'amnesia più o meno completa, mentre nell'ipnosi artificiale, essi vengono perfettamente ricordati. I risultati psichici di tali stati, le associazioni in esse formate, sono appunto sottratti dall'amnesia e qualsiasi correzione del pensiero vigile. E dato che nell'autoipnosi, la critica e il controllo tramite altre rappresentazioni sono ridotti, e di solito quasi del tutto scomparsi, possono sgorgare da essa le rappresentazioni deliranti più pazze e rimanere intatte per lungo tempo. Nasce così, quasi soltanto in stati siffatti, un'alquanta complicata e irrazionale relazione per così dire simbolica tra il fatto originario e il fenomeno patologico, la quale, in vero, spesso si basa sulle più risibili assonanze e associazioni verbali. Alla accriticità degli stati autoipnotici si deve il fatto che ne nascono tanto spesso autosuggestioni, quando, per esempio, dopo un attacco isterico, rimane una paralisi. Peraltro, forse per caso, nelle nostre analisi non ci siamo praticamente mai imbattuti in questo tipo di genesi di un fenomeno isterico. Li troviamo sempre determinati, anche nell'autoipnosi, dallo stesso processo come al di fuori di essa, dalla conversione di un eccitamento affettivo. Questa conversione isterica si compie nell'autoipnosi, comunque più facilmente che non nella veglia. Così come del resto nell'ipnosi artificiale, con tanto maggiore facilità le rappresentazioni suggestive si realizzano somaticamente quali allucinazioni e movimenti. Ma il processo della conversione dell'eccitamento è non di meno nella sostanza il medesimo che fu esposto più sopra. Una volta accaduto, il fenomeno somatico si ripete quando affetto e autoipnosi nuovamente si incontrano. E sembra che lo stato ipnotico venga allora provocato dall'affetto stesso. Così, in un primo tempo, fin tanto che l'ipnosi si alterna puramente con la veglia perfetta, il sintomo isterico rimane limitato allo stato ipnotico e viene rafforzato dalla ripetizione in quest'ultimo. Inoltre, la rappresentazione che dà la spinta rimane protetta contro la correzione del pensiero vigile e della sua critica. Appunto perché, nella veglia lucida, essa non emerge mai. Così, in Anna O, la contrattura del braccio destro che nell'autoipnosi si era associata con l'affetto d'angoscia e con la rappresentazione del serpente, rimase limitata per quattro mesi ai momenti dello stato ipnotico, ma ripetendosi spesso. Lo stesso avveniva con altre conversioni compiute nello stato ipnoide e così, in perfetta latenza, si costituì quel grande complesso di fenomeni isterici che apparve manifesto quando lo stato ipnoide divenne permanente. Nella veglia lucida, i fenomeni così formatisi si manifestano soltanto quando si è compiuta l'ascissione della psichie, di cui si dirà più avanti. E l'alternarsi degli stati desti e ipnoidi è stato sostituito dalla coesistenza dei complessi, normale e ipnoide, di rappresentazioni. Esistono tali stati ipnoidi già prima della malattia e come vengono a costituirsi? Non so dire ben poco, giacché non disponiamo di altra osservazione all'infuori del caso di Anna O, che possa fornire un chiarimento al proposito. In quella malata pare certo che l'autoipnosi fosse preparata da sogni abituali e che poi fosse stabilita in pieno da un affetto d'angoscia protratto che del resto da solo costituisce la base di uno stato ipnoide. Non appare inverosimile che tale processo abbia valore più generale. Stati molto diversi determinano assenza mentale, ma solo alcuni di essi dispongono all'autoipnosi o vi si trasformano direttamente. Un ricercatore che sia immerso in un problema è certamente anche anestetico in una certa misura e non riesce a formare percezioni coscienti per grandi gruppi di sensazioni. E avviene proprio così a chi vada vivacemente creando fantasie, teatro privato di Anna O. In tali stati, però, viene energicamente prestato un lavoro psichico e vi viene impiegato l'eccitamento del sistema nervoso che viene liberato. Nella distrazione e negli stati crepuscolari della mente, per contro, l'eccitamento intracerebrale scende al di sotto del livello della veglia lucida. Questi stati confinano con la sonnolenza e sono una transizione verso il sonno. Se in tali stati dell'essere assorti e dove il decorso delle rappresentazioni è inibito, un gruppo di rappresentazioni accentuate è affettivamente vivo. Esso crea un elevato livello di eccitamento intracerebrale che non viene impiegato in un'attività psichica ed è disponibile per prestazioni anomale, come la conversione. Così non sono patogeni né l'assenza mentale in caso di lavoro energetico né lo stato crepuscolare privo di affetto, bensì il sognare colmo di affetto e lo stato di fatica che deriva dal protrarsi degli affetti. L'arrovellarsi della persona preoccupata, l'angoscia di chi veglia al capezzale di un malato caro, la fantasticheria degli innamorati sono stati siffatti. La concentrazione sul gruppo di rappresentazioni affettive determina anzitutto l'assenza, gradualmente il decorso delle rappresentazioni rallenta finendo quasi per stagnare ma la rappresentazione affettiva e il suo affetto rimangono vivi e con essi anche la grande quantità di eccitamento che non è impiegata in modo funzionale. La somiglianza delle situazioni con quelle caratteristiche dell'ipnosi appare evidente. Anche la persona da ipnotizzare non deve addormentarsi realmente, vale a dire il suo eccitamento intracerebrale non deve scemare sino al livello del sonno. Il decorso delle rappresentazioni deve però venire ostacolato. Allora tutta la massa dell'eccitamento rimane a disposizione della rappresentazione suggerita. Così pare nasca l'autoipnosi patogina in talune persone in quanto l'affetto si introduce nella fantasticheria abituale. E' questa forse una delle ragioni per cui nell'anamnesi dell'isteria incontriamo tanto spesso i due grandi fattori patogeni l'innamoramento e l'assistenza ai malati. Il primo crea con il pensiero nostalgico all'essere amato assente il rapimento l'oscurarsi della realtà circostante e poi l'arrestarsi colmo di affetto del pensiero. L'assistenza ai malati con la quieta esteriore la concentrazione su un oggetto lo stare in ascolto del respiro del malato realizza proprio le medesime condizioni di molti metodi di ipnotizzazione conferendo allo stato crepuscolare così formatosi l'affetto d'angoscia. Forse tali stati si distinguono solo quantitativamente dalle vere autoipnosi e introducono ad esse. Una volta che ciò si sia verificato lo stato simile all'ipnosi si ripete sempre di nuovo nelle stesse circostanze e allora l'individuo invece dei due stati psichici normali ne possiede tre la veglia il sonno e lo stato ipnoide come osserviamo anche in caso di ripetizione frequente dell'ipnosi artificiale profonda. Non so dire se gli stati ipnotici spontanei possono svilupparsi anche senza tale intervento dell'affetto quali i risultati di una predisposizione originaria ritengo però che ciò sia assai verosimile. Quando vediamo quanto è vera nelle persone sane e malate l'attitudine all'ipnosi artificiale quanto facilmente essa si verifica in taluni è ovvio sospettare che in essi avvenga anche spontaneamente e la predisposizione a ciò è forse necessaria perché lo stato trassognato si trasformi in autoipnosi sono quindi ben lontano dal presupporre in tutte le persone isteriche il meccanismo di genesi che Anna O ci ha fatto apprendere. Parlo di stati ipnoidi anziché di ipnosi perché questi stati tanto importanti nello svilupparsi dell'isteria sono assai male delimitati. Non sappiamo se il fantasticare che qui sopra è stato indicato come stadio preliminare dell'autoipnosi non possa già compiacere di per sé la medesima funzione patogena di quest'ultima e se per l'affetto d'angoscia protratto non possa dirsi lo stesso. Per lo spavento la cosa è sicura in quanto inibisce il decorso delle rappresentazioni mentre una rappresentazione affettiva di pericolo è vivacissima esso presenta un completo parallelismo col fantasticare carico di affetto e in quanto il ricordo sempre rinnovato continua a repristinare tale stato psichico nasce uno spavento ipnoide nel quale la conversione si afferma o si stabilizza sia allo stato di incubazione dell'isteria traumatica in senso stretto dato che stati così diversi ma concordanti nel punto più importante si allineano con l'autoipnosi è consigliabile l'espressione ipnoide che sottolinea questa intima somiglianza essa riassume quel punto di vista propugnato da Moebius nelle frasi più sopracitate anzitutto però essa indica l'autoipnosi stessa la cui importanza per la genesi dei fenomeni isterici consiste nel fatto che agevola la conversione e protegge mediante l'amnesia le rappresentazioni convertite contro l'usura protezione questa da cui deriva infine un aumento nella scissione psichica se un sintomo somatico è causato da una rappresentazione e viene ogni volta provocato da essa ci si dovrebbe aspettare che i pazienti intelligenti e capaci di autoosservazione fossero consapevoli di tale connessione che sapessero per esperienza che il fenomeno somatico si presenta contemporaneamente al ricordo di un determinato evento il nesso causale intimo certamente è loro ignoto ma noi tutti sappiamo però sempre quale rappresentazione ci faccia piangere o ridere o arrossire anche se il meccanismo nervoso di tali fenomeni ideogeni non c'è nemmeno lontanamente chiaro ora in realtà talvolta i pazienti osservano davvero la connessione e ne sono consci una donna dice per esempio che il lieve attacco isterico all'incirca tremore e palpitazione proverrebbe da una certa grande agitazione emotiva e si ripeterebbe soltanto in occasione di ogni fatto che la ricordi ma non è così per moltissimi certamente per la maggioranza dei sintomi isterici anche i pazienti intelligenti non sanno che essi si verificano a seguito di una rappresentazione e li considerano fenomeni somatici autonomi se non fosse così la teoria psichica dell'isteria avrebbe già raggiunto un'età rispettabile si è portati a credere che i fenomeni morbosi in questione siano bensì originariamente ideogeni ma che la ripetizione li abbia per dirla come Romberg impressi nel corpo ed ora non sarebbero più basati su un processo psichico ma sulle modificazioni nel frattempo createci dal sistema nervoso sarebbero diventati sintomi autonomi autenticamente somatici a priori questa ipotesi non è né impossibile né inverosimile ma io credo che la novità che le nostre osservazioni apportano alla dottrina dell'isteria sta appunto nella prova che tale ipotesi perlomeno in moltissimi casi non è appropriata abbiamo visto che i più diversi sintomi isterici scomparivano dopo anni di esistenza subito e in modo definitivo quando si era riusciti a ridestare con piena chiarezza il ricordo dell'evento determinante risvegliando insieme anche l'affetto che l'aveva accompagnato e quando il malato descriveva l'evento nel modo più completo possibile esprimendo verbalmente il proprio affetto le storie cliniche qui narrate forniscono alcune prove di tale affermazione invertendo il detto cessante causa cessat effectus ci sarà lecito dedurre da queste osservazioni che l'evento determinante vale a dire il ricordo di esso continua ad agire in qualche modo ancora per anni non indirettamente per il tramite di una catena di anelli causali intermedi ma come causa diretta circa come un dolore psichico coscientemente ricordato da sveglio provoca anche dopo molto tempo secrezione di lacrime l'isterico soffrirebbe per lo più di reminescenze ma se così è se il ricordo del trauma psichico a guisa di un corpo estraneo deve valere per lungo tempo dopo la sua introduzione ancora da gente che opera nel presente e tuttavia il paziente non ha alcuna coscienza di tali ricordi e del loro emergere dobbiamo ammettere che esistono e agiscono rappresentazioni inconsce nell'analisi dei fenomeni isterici però troviamo solo rappresentazioni inconsce isolate dobbiamo invece riconoscere che realmente come mostrano i meritevoli ricercatori francesi grandi complessi di rappresentazioni e processi psichici ricchi di conseguenze in taluni malati restano del tutto inconsci coesistendo con la vita psichica cosciente che si verifica una scissione dell'attività psichica che di fondamentale importanza per la comprensione delle isterie complicate ci sia permesso di addentrarci un poco in questo campo difficile ed oscuro la necessità di stabilire il significato delle espressioni adoperate potrà in qualche modo scusare la discussione teorica che segue